Non è un'altra tantissima, ma quando hanno sottosato di questo progetto, ora che lo facciamo a dire, chiedi se ci stivano le regolette, non lo consigliano a loro, da riconoscere un modello. Se va con i suono, c'è poliziette, o cosa va a fare, come si tratta di un'altra fisica, che è un'unità geografica, perché non sapevano i nostri paesi, a chi si tratta di un'altra fisica regolette, ma la verità, io ho provato a vedere, non è un decadio, è un chissimo verde, perché in un momento in Polonti, ma tiene a mezzo un caldo verde, è una realtà un po' diversa, perché non è chiaro. La fortuna di essere in paesi, in San Paio, però, molto attaccati alle grandi cittadini di un distrito di Puglia, sono molto un'altra parte di tutti i servizi, come erano un po' sottata di mano, e invece, nel loro paese, per fare favore un po' come da un po' 20, che era il primo posto che avevano adesso, ancora per fare un sistema elettrico, cipolli, chiedi. Ma poi, per esempio, se non si tratta di più le nostre mani, che si tratta di più, vedete a lui qui ci trovano il M Hardi, a tutti oltre amici, fuori di Montri Salvini, seriella, delle col husbandi che구 di Gillespie al Astri Schiave Successful Grazie.